Simac Day 2019, Clemente Massaro, il fondatore di Simac Solar, la soddisfazione di vedere crescere anno dopo anno questa creatura che è nata forse quasi per scommessa, oggi è inconfutabilmente una realtà sul territorio. Sì, sono molto soddisfatto, un anno abbastanza soddisfacente, quello del 2019, chiudiamo con un buon aumento di fatturato e devo ringraziare a tutti, in primis mio figlio che ha voluto fortemente questo profilo nuovo con un nuovo marketing grazie a voi come Ram che ci state aiutando in questa scommessa e all'acquisizione di nuove risorse umane che fanno adesso della nuova realtà una società abbastanza organizzata, strutturata e pronta per affrontare le sfide del nuovo anno. Ecco, le sfide del nuovo anno, obiettivi rinnovati, sicuramente di fronte a una prospettiva di crescita ulteriore. Certo, fortunatamente nonostante la crisi e il bacino di utenze in cui operiamo, che è il centro-sud in particolare, stiamo mettendo mattone e demomattone un aumento di interesse nel settore, quindi di fatturato, lieve, leggero ma comunque positivo e in crescita. Questo ci fa ben sperare che il prossimo anno sia ulteriormente più soddisfacente grazie alla nuova organizzazione che ci siamo dati in termini di marketing e soprattutto nell'acquisizione di nuovi consulenti commerciali che grazie alla collaborazione di Ram potranno crescere e formarsi con nuove sfide e nuovi fatturati. E allora il 2020 alle porte rivolgiamo a tutti un augurio solare. Un solare auguri a tutti voi, a tutti noi, un grazie per la collaborazione e per la stima che ci avete sempre mostrato e la garanzia che ci date col vostro contributo.